Dall'Opera di Parigi al San Carlo di Napoli fino al Royal Ballet di Londra e all'Opera di Roma. Sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo un parterre d'etual dai più prestigiosi corpi di ballo. Quest'anno la stagione concertistica Aretina si è infatti arricchita di un prezioso gala di danza creato in collaborazione col primo solista del Royal Ballet Valentino Zucchetti che per l'occasione ha presentato in prima assoluta il suo ultimo lavoro investe da coreografo. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto un percorso validissimo, abbiamo portato a Arezzo artisti davvero importanti che calcano i palcoscenici più importanti del mondo e questa sera ne abbiamo un esempio, abbiamo uno spettacolo di danza che abbiamo deciso di inserire nel nostro cartellone con le stelle della danza mondiale. Abbiamo alcuni dei ballerini migliori e più famosi del mondo con un programma splendido, con musica dal vivo. La sfida è stata questa in questi anni, quella di portare ad Arezzo interpreti importanti, alzare la qualità dell'offerta tenendo i conti sotto controllo, quindi meglio di così. Otto i pezzi danzanti proposti che hanno spaziato dal balletto romantico ad opere contemporanee. Il mondo del ballo per me è sempre stato lo stesso, è trasmettere emozione al pubblico, raccontare delle storie, le nostre storie personale, non si trasmettono con parole ma con movimento e con movimenti del corpo e è ancora più grande, puoi trasmettere ancora più emozione e per questo che apprezzo tanto ballare. Grazie.